Nei nostri confronti la Grecia ha un debito di circa 40 miliardi di Euro, mal contati, miliardo più, miliardo meno. Io penso che quei 40 miliardi sono 40 miliardi dei cittadini italiani e di conseguenza pensare di annullare parte di quel debito sia un'offesa nei confronti degli italiani. Allora se dobbiamo fare un ragionamento e dire benissimo la Grecia, i cugini greci sono in difficoltà e di conseguenza lo rimoduliamo, lo posticipiamo in modo che le prossime generazioni potranno beneficiare di quello che noi gli abbiamo prestato, benissimo sediamoci al tavolo e ragioniamola. Il taglio lo ritengo veramente una cosa neanche da prendere in considerazione, anche perché sono stati loro, è stato Tsipras a decidere di rimanere in Europa, nessuno gli ha detto, l'ha obbligato come lui va in giro a dire. Noi abbiamo assistito allo Tsipras, alcuni lo chiamano populista, io lo chiamo Tsipras referendario, dove ha chiesto ai propri cittadini cosa pensavano in merito alle proposte dell'Europa, la Grecia, i cittadini greci avevano in modo molto democratico, cosa che non succede purtroppo in Italia, avevano dato un'indicazione ai propri politici che l'hanno totalmente disattesa e di conseguenza oggi come oggi penso che nel momento in cui Tsipras decide di accettare quelle che sono le condizioni dell'Europa per rimanere in Europa, le deve accettare a 360 gradi. Io poi l'articolo, il titolo che dice Tsipras riformista, io vedo parecchi problemi nel momento in cui dall'Italia guardiamo la Grecia, perché quando è arrivato Tsipras veniva quasi imitato da una parte della sinistra italiana, poi Tsipras ha deciso di fare il referendum, allora sei un irresponsabile, adesso Tsipras decide di accettare le condizioni dell'Europa, ah Tsipras Tsipras è un furbacchione che per rimanere al suo posto e poter andare avanti a governare in questo momento farebbe accordi anche con, non con Babbo Natale, ma con Satana e Satana è l'Europa e quindi i cittadini greci sanno benissimo che cosa sta succedendo e infatti ieri sera erano in piazza e hanno già preannunciato tutta una serie di scioperi importanti, gli scioperi in Grecia sappiamo benissimo che non sono come quelli in Italia, dove magari scioperano in pochi e poi magari per qualche ora, perché sappiamo benissimo i nostri sindacati spesso come si comportano nei confronti del governo, gli scioperi in Grecia sono scioperi lunghi, sono scioperi importanti e sono scioperi molto partecipati e quindi vorrò vedere Tsipras come si comporterà nei confronti dei propri cittadini.